È arrivato Mabbo Natale! Ah no! Babbo Natale scende giù dal pano! E se si fa male? Buttati se si Mabbo! Panettone Motta, morbido Natone Motta, m-m-mor-panetale! Senti Robby, da quando conosco Siga Mega Drive sono diventata Sonic! Mabbo Natale! Vabbè Robby! Fai come me! Nell'attesa telefonate subito al numero che vedete qui in sovraimpressione! Potrete vincere così e tantissimissimissimissimissimissimissimississime games e Gabbia! Ma hai Cristina? Eh sì, sono proprio io! Anche io mi puffo il mio bel puffo pisolone! E allora, puffiamoci tutti insieme! Il nostro buffo fu il mio bel puffo! Dalogogiochi fustiosi trovi tantissimi fusti per fustare con l'unice fustibile gratis! Ma Professor Dix cosa fa? Oh oh! Chi ha bisogno di glubberare alla Pars Niners causalagazionare... Om nom 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 nom... ... Facciamo un rrrrrr вобрrekk Un brrrrentino sgrattno Palmabile Sfizioso e Gattoso улиvolo Tony, Tony Kellno Gomore Salm Frederick Siate passate per un porticcio! Siiiiii! Con Jeep Tiger Capi gli eroi del momento Stryper Monarch Batte la porta g**ch In Primo aereo per i filmissim Mamma ho perso mamma Facciamogli analizzare un campiello. Solo uno, però. Facciamogli analizzare mamma. Ti piace? Buono mamma, ancora, ancora. Erbette, c'è l'isotte. Come hai detto, scusi? L'erbette con il risotto. È il mio preferito piatto. A noi, benvenuto. La mia vita è tutta un 6. Sono nato nel 6 e 6. Abitavo al 6. A scuola... Se io potrei... Prendevo sempre di 6. Lei... Mi ha scelto tra l'altro di 6, 6, 6. Buttati! Diario dell'idraulico numero 1. Buttati! No! Ah, sei di napon. Sì di napon.